Presentati questa mattina a Pescara, nella sede dell'assessorato regionale al lavoro, i nuovi bandi riguardanti il programma Goal 2, che prevedono una serie di interventi in materia di formazione professionale e occupabilità. È in pubblicazione un avviso di Goal per una montata di quasi 8 milioni di euro, che si spalma su tutti e quattro i percorsi, quindi quello di reinserimento lavorativo che è diretto ai lavoratori che hanno soltanto bisogno di colmare un piccolo gap di formazione, per coloro che hanno la necessità di fare upskilling, quindi di aggiornare le competenze, per i lavoratori che invece sono in una fase di reskilling e quindi per quei lavoratori la cui lontananza dalle esigenze del mercato è molto lontana, e infine per i lavoratori fragili e vulnerabili. Questi 8 milioni quindi saranno rispalmati per questa platea di destinatari e al centro delle politiche di Goal, ancora i centri per l'impiego, ai quali destiniamo il lavoro, la responsabilità di fare l'assessment, la profilazione e di indirizzare poi verso le diverse opportunità e gli organismi di formazione, per il quale il bando si apre il 5 di agosto, si chiude il 13 di settembre e durante questo tempo avranno la possibilità di chiedere appunto l'ammissione alla Regione per l'erogazione dei corsi di formazione. La novità di questo avviso è un avviso che è stato maggiormente calibrato rispetto alle richieste delle aziende, con le quali io mi sono personalmente confrontata più volte sia al di fuori come nei tavoli istituzionali che nei tavoli istituzionali attraverso intanto la commissione lavoro che è insediata presso questo assessorato e anche attraverso il confronto più istituzionale con gli attori del mercato del lavoro cominciando dalle parti datoriali ma anche con le parti sindacali. Un catalogo più ristretto e fatto di corsi di formazione più brevi per scongiurare l'abbandono che è stato registrato in tutta Italia come uno dei fattori che ha impedito a Goll sinora di fare i numeri pieni.